Aiuto Giulio, mi butta giù Ciao a tutti fratelli e sorelle bentornati in questo nuovissimo episodio di Minecraft Siamo rimasti con il nostro amico Pantera Nera diciamo con un po' tarocco Principetto Ciala Direttamente da Wakanda in Minecraft Nello scorso episodio siamo rimasti con un dubbio amletico Visto che siamo troppo vicini con i villaggi E il portale del Nether è condiviso Quindi per entrare ci sono due porte Ma per uscire dal Nether ce n'è una sola Quindi dobbiamo capire effettivamente se usciremo a casa mia o usciremo al villaggio del nostro Solfie Come devono mettere mi piace? Con il naso Con il naso l'abbiamo già fatto ma va bene Ragazzi il principe Ciala ha deciso che col naso dovete mettere mi piace Episodio 11 siamo pronti per tornare indietro Quindi oh mal che vada un bel tour del tuo villaggetto per mi aiuti ok? Va bene Andiamo Mal che vada finiamo in un terzo portale Ecco andiamo da qualche altra parte esatto Dove che siamo? In Wakanda Ma questa non è casa mia Questa è casa di Ticcialla Ma poi è il portale gigante hai fatto Ma il principe Ciala ha mania di grandezza Giustamente Quindi Questo è il sentiero che porta al mio accampamento Questa è essere il grande pantera nera che protegge il portale Oh cacchio ma mica l'avamo vista Aspetta io non avevo capito che era Pensavo fosse una grotta Non avevo capito La pantera nera ha solo una zampa perché è ancora in work in progress Ah la devi ancora migliorare ok Sì la devo ancora migliorare Ah è questa all'inizio della zampa l'altra Esatto È ancora un moncherino per ora Cioè capisci Questa la miglioriamo Questa sarà il figlio Devi fare anche quella della mamma gigante Esatto Qua arrivi in Wakanda Grande accampamento di Wakanda È primitivo Partiamo con qui ci sono i tesori del Wakanda Ok Più dei miei probabilmente Qua c'è ancora piccola piantagione di Wakanda Ok bello Qua c'è mappa di mondo che adesso deve essere ingrandita Però per ora una sola Ah quindi si vede E questo Ah ma quello lì è la pantera? È la pantera sì Con le cose grigio che vedi Con quel gnocco grigio nella foresta è la pantera Poi c'è il diario di bordo Dove appunto espansione di Wakanda Giorno 1 Intenzione di costruire una gran villaggio nella giungla Lo chiamerò Wakanda Per ora è solo un accampamento ma sono sicuro che presto diventerà un impero Stai facendo veramente tipo la roba degli Avengers Il giorno del mio Wakanda prende forma Ho sempre nuove tecnologie Ho trovato dei diamanti ed ora andrò ad esplorare il nether A guarda del portale ho costruito una pantera di pietra enorme Purtroppo non sono ancora riuscito a finirla Giorno 3 oggi ho deciso di incrementare l'industria e l'agricoltura Creando dei campi migliori Ed un'apposita zona per costruire cose e depositarle Bello Poi qua c'è grande letto di principe Con a fianco armatura di pantera nera Come fai con le zanzare e la temperatura qua in giungla? Le zanzare non mi pungono Qua c'è il ruscello dove è la zona a viveri Di viveri ancora non ce ne sono perché li consumo Ecco giustamente con tutti Ci sta ci sta Ma ti mancano le carote le cose Adesso prima o poi venire a saccheggiare il tuo villaggio Qua è la parte un po' più dell'industria Che ho creato ogni singola fornace Che non so bene come funzioni Ma no ma tipo questi due non esistono ancora Cioè solo li puoi creare ma non fanno niente Figata gli stendardi che hai fatto Gli stendardi sì sono una figata Si fanno col telaio E questo è grande simbolo di Wakanda Non è vero però E qua Mi mette a soggezione sto posto Ho paura che ci siano gli arcieri sugli alberi E qua c'è la miniera Dove io scavare vibranio Che non esiste però io ho immaginare di scavare vibranio Bello bella anche la cosa qua delle torce Come le hai fatto tipo stile Su lampione no? Se lo facevi ancora più alto sembrava un lampione tipo di stradale È finito Vabbè ci stanno vabbè Piccolino ma comunque è comfort mi piace È molto comfort il Wakanda Il Wakanda diventerà un impero E qua andando un po' a casaccio Si arriva al tuo villaggio Ah di qua? Di qua si va al villaggio Io di solito per andare al tuo villaggio Guarda faccio così Esco Ah tu sai dove è il mio villaggio quindi? Mi tenevi da... mi tenevi... Mamma mia mi tenevi nascosto Nascosto in mezzo agli alberi Wakanda è nascosto da giungla a noi spiare tutto Comunque è una figata di villaggio hai fatto Complimenti Veramente interessante Un giorno Wakanda Un giorno non sarei più ad andare a visitare il Wakanda Sarà il Wakanda che visiterà te Allora andiamo subito in casa Prima di trovare qualche creeper bruttino E ti presto un letto Ah si mi ricordo questa cesta Eccolo qua Ma come? Ma come? Ma prima di andare volevo sistemare un attimo due cose Allora a fare... Faccio qui il blocco Nether Faccio il... come si chiama? La sezione Sì faccio lo scatolame Nether Oddio mi stai versando... Mi svuoto le tasche Gli ori Ma non ti servono a te le cose? Ma no tanto prima o poi li andrò a riprendere La sapete delle animo Aspetta è che abbiamo anche il cartello Adesso lo mostro a tutti Animo Spammate nei commenti animo Se non avete niente da aggiungere per questa nuova serie Mi dici come si fa il coso? Il... Il coso del libro? Allora una libreria e quattro slab di legno No no ma faccia con comodo come se fosse casa sua eh Io... Mi sto rifucillando Sto... Stai prendendo tutto quello che non hai mai preso Non ho detto tutto quello che posso qua Guarda quei cani Oddio no Oddio no Cosa? Non sapevo Lo sapevo Io lo sapevo Luigi Petticciara ha sentito una botta Io lo sapevo O non ti lasciano tregua Non li vedi È tutto nel verde Mi sembra che mi servano tre libri Per fare... Esatto Facciamo la libreria E... Prendiamo un altro pezzo di legno Perché mi serve fare una slab Mi hai detto tre sotto una libreria No uno sotto? Al centro Ok No tre sopra una libreria al centro e uno sotto la libreria Ok Leggio Esco il legno E qua ci posso quindi puoi mettere sopra dei libri? Ti puoi mettere sopra dei libri si Ma anche incantati? Non lo so Vabbè va bene va bene Lo metto... Userò questo qua Userò va bene nessun problema Allora amico... Amico Solfy Vorresti darmi una mano? Io devo anch'io rafforzare il mio muro Se un giorno T'Challa attaccherà il mio villaggio Quindi tu devi aiutare me a fare il rafforzamento Perché noi abbiamo un... Tu sarai anche nemico di tutti i youtuber Ma abbiamo anche un altro nemico in comune Perché tu sai che il nemico del tuo nemico è il tuo amico Sono i pillagers Tenga qua Venga pure di qua Uno Uno due Vai intanto che tu fai quello Io mi metto la mia veste da carpintiere va bene? L'attendo allora Intanto rompo due alberi Che almeno faccio libero Perché avevo un'intenzione Visto che mi stanno crescendo degli alberi geneticamente modificati qua fuori Ho deciso che tutti quelli piccoli li romperò E quelli grossi li terrò Almeno evitiamo lo spawn di Creeper Cos'è? Cosa ride? Nulla, nulla Questa è la vestale di quando non è in guerra? Questa è la vestaglia di Wakanda tipica di re Complimenti, mi piace veramente Grazie Mi piace veramente un sacco Mi piace Uh, c'è un nero È il mio amico Oddio, non lo guardi negli occhi Potrebbe essere È tornato il mio amico Quello che non mi attacca Vediamo No cacchio Che si è incazzato Precipetticiare Non avere veste di pantera nera Non può difendere Faccio io Faccio io Non si preoccupi Oh Dai, muori Non l'ho lasciato a enderpearl No Maledetto Adesso noi possiamo andare in miniera Se vuole Andiamo in miniera Sono pronto a scavare Comunque tutti questi No, no, no Tutti questi buchi li chiuderò Come se fossero altre miniere Nel senso Gli metterò le staccionate No, ho fatto tutti gli buchi belli Fatti apposta E tutte le cose Vanno giù a spirale Come vede E io adesso per ora Sono arrivato qua Eh, però E bisogna continuare Ad andare in cerchio Un cerchio abbastanza largo Non pensavo che il Principe de Ciala Si abbassasse a scavare i miniere Principe de Ciala Illumina anche In questo episodio Troviamo almeno 10 diamanti L'ha detto Ehi Meno male In due Ismaelic e One Sto lavoro Perché veramente Se no era una menata Incredibile Che non puoi capire Dovevo assolutamente Fare un altro pit stop E cucinare qualcosa E' inutile tornare a casa Ma ci penso Io Fai tu una fornaci Ci pensa Ciala Tieni io ti lancio Carbonè Inutile l'oro Noi dobbiamo Noi dobbiamo picconare Oro per fare i gioielli Per donne del Wakanda Donne di Wakanda Volere i gioielli Quindi mi racconti un po' di lei Mi racconti un po' del suo futuro Cosa vuole fare nel suo villaggio Signor Ciala Veramente Conquistare il brutto albero Di Emerald Sto andando giù A trovare i diamanti Così io portare Come dono di pace Non ci sono Oh madonna Oh ma ho trovato una grotta Tipo gigantesca Pieno di materiali E' vero? Mangia una piccola patata al forno E torna a lavoro Questo era soltanto Sai quando vai Entra nelle grotte Tra i tesori Fai I tesori E te ne frega Un cacchio Della missione principale Tu Raccati tutto La side Questa è più importante A che livello siamo qua? 17 Guarda che siamo vicini Sì sì Ormai siamo praticamente arrivati Possiamo renderla Molto quartier generale Allora questa grande piazza Vicino all'11 Comunque in realtà Baseggiamo solo questo qua mio Cioè Non dobbiamo Non scendere più Non scendo più? No anche se siamo a 13 Oddio Perché tanto siamo comunque Arrivati verso tipo la fine no Due torce Una qua Una qua Sascha io Il mio fiuto da cercatore di diamanti Mi dice di venire qua Ma perché ne hai già trovato uno Scusate vedere No 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 Però io c'ho il naso Qua c'è un posto un po' strano Mi basterà scavare due blocchi E vedrai che trovo i diamanti Vai vai Io ti seguo a ruota vicino Il mio fiuto è infallibile Eh immaginavo sì Il mio fiuto pressoché infallibile Mi dice Che cos'è questo? Oh Non ci sono cagato ad osso Aspetta perché qua la redstone continua E attenzione perché Non c'è niente I tuoi calcoli erano falsi Con la potenza conferite mi di Animo Ho il terzo occhio E so dove sono i diamanti Basta Voglio i diamanti Basta Viale di Il granito Non lo voglio più vedere Basta anche a livello 11 Non lo voglio più vedere Ho diamanti Sì Sì Veramente? Quanti? Quanti? Come lo sentire? Fammi sentire che ne hai trovati 8 Uno Noo Due 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 Aspetta Tre 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 Meglio di niente Beh tre non sono pochi eh Potrebbero diventare anche nove Adesso voglio venirla a vedere Ammirarli e poi ce ne andiamo Oh altri diamanti Oh crack Eh ma devi dire dove sei Eh ma devi dire dove sei E non mi ricorda la via Ho trovato altri due diamanti Per un totale di cinque Oh mio Dio Sono cinque diamanti Proprio vicini Tu più bravo di me Ecco cosa sono questi rumori Oh mio Dio Sono tre diamanti In cinque anni Oh my god Ma perché in giù? Come li hai trovati giù? Eh per terra mentre Ah no li ho trovati perché stavo scavando dell'oro Ci ho cinque diamanti e non sono pochi eh Tra l'altro secondo me esco ci sono i raptor Quelli volanti Pipistrelli Perché non dormi dalla vita? Sì li sto sentendo Sento i rumori Cazzo Aspetta che c'è un infame Aiuto Vuole mani a mettere i lavori Ci vuole lasciare andare via Ok Voglio aiuto Ne arriva un altro ancora Mi vedo l'acqua Aiuto Mi butta giù Ma che diavolo Ok l'ho ucciso L'ho ucciso Siamo arrivati Oh ma c'è uno slime No davvero? Qua nascono le slime Te lo lascio a te fratello Tu avrai più bisogno in giungla Di volare Brutus E' buono Guarda che se ne escono qua Ci puoi anche fare la farm E' il top Non sono sicuro Che sto uscendo dalla parte È giusto Abbiamo fatto Finalmente anche la miniera Cioè abbiamo fatto mille cose Guarda un pappagallo Un pappagaio Un pappagaio Un pappagaio Oh mamma mia No ma è pieno di mob Entra in casa Se non ci sono i creeper Ah Vesta immonda Oh mio dio Vola vola in casa Vola Senti il mostro Oh madonna Bruciatevi Demonio Brucia vivo demonio Allora dove Ti devo intasare una cesta io Di cobblestone Oh madonna aspetta che devo Oh mio dio aspetta Ecco vado Pazzesco Abbiamo fatto un botto di roba Ci sono i pillagers Chiudiamo che li ammazziamo Dove? Non ti Li vedi? Lavanti a te qua 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 Sono dentro il villaggio Non li vedi? Ciao Vati a cambiare Te lo vado a saccagnare Oh ma quanti sono? Eh te l'ho detto che ti attaccano Sto subinzagliando i cani Mamma mia Si vuole gli addosso Li fracassiamo Guarda lo schietro Guarda lo schietro Guarda Riot Eccoli Vai 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 di targettare Oh Oddio 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 Il canile Incazzati neri Attaccate Attaccate Ho uscito quello sbagliato Sì adesso se vai a un villaggio Vai vai ammazzati tutti Vai doggy Stanno facendo un macello Non usare a toccare i miei cani eh Ma è bellissimo avere un esercizio Oh ma guarda sto ragno Ma io te l'avevo detto Guarda quanti sono E il buff dura per sempre quello del villager cattivo? No Dura un tot di minuti Non lo so una mezz'ora Non so quanto dura Eccolo qua Io e il principe del Wakanda abbiamo anche estirpato Te l'avevo detto che c'era un nemico Il nemico del nemico è tuo amico Io e te siamo amici contro un nemico comune Animale animale Questo video può concludersi qua Mi raccomando lasciate il mi piace Come ve l'ha detto Giulietto Quindi con il naso A me resta altro che ringraziarvi e salutarvi Mi raccomando continuate a supportare Passate anche da Giulio Che probabilmente starà facendo uscire degli episodi Vi potete iscrivere al centro Guardare altri miei due bellissimi video Forza Wakanda E buona visione Ciao Ciao E purtroppo ho detto buona visione Vabbè ciao 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 Ciao